Buonasera a tutti. Allora, io di solito comincio questo programma dicendo sempre questa sera surfiamo sulle onde dell'Honduras e purtroppo la scorsa settimana un'onda un po' più grande ci ha travolto e quindi io voglio chiedere scusa a nome mio e del programma per aver oltrepassato il limite. La persona però a cui voglio chiedere scusa più di tutti è quell'uomo lì, quindi vi chiedo di aprirmi l'audio per favore. Riccardo? Sì, sì. Sono Alessia, ciao Riccardo. Ciao Alessia. Allora Riccardo, scusami se ti ho chiamato prima di cominciare il programma ma io ho bisogno di fare una cosa perché altrimenti non riesco a continuare. Io ti devo chiedere scusa Riccardo. Io ti devo chiedere scusa perché la scorsa puntata io ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova e ti devo chiedere scusa perché non mi aspettavo la tua reazione, ti avevo visto così forte talmente tanto anche la settimana prima quando hai incontrato Karin, che io ho sottovalutato tante cose.